Ciao ragazze, bentornati sul canale! Oggi vi faccio un mini haul di acquistini da Tigotà perché sono iniziato un po' di saldi, un po' di sconti e quindi vi volevo mostrare insomma che cosa ho preso poche cose però ve le faccio vedere peraltro oggi sono stata in un negozio di casalingo ad informarmi per comprare un set di coltelli nuovi da cucina perché quelli che ho comprati da poco hanno fatto la ruggine utilizzandoli normalmente ma soprattutto lavandoli in lavastoviglie mi hanno appunto spiegato anche che questo trattamento in quelli più economici magari come quelli che ho io di Excelsa che non sono costati una follia però sono costati, non è assicurato con il lavaggio in lavastoviglie perché poi se rimane l'acqua nell'insennatura e non si asciuga bene può poi far venire questo problema me ne avevo consigliato un tipo di un marchio che ho visto anche su Amazon che costa 3-4 euro in meno, un set da 6, comunque 38 euro, 6 coltelli insomma ad ogni modo se fossi certa che non danno problemi, mi durano una vita eterna allora li acquisterei un po' più volentieri però non mi ha potuto assicurare mi ha solo detto questa persona che li ha testati lei, questo marchio e mi ha detto guarda non mi hanno dato problemi fino ad ora però non lo so, vediamo un po' anche le recensioni su Amazon vedo un po' la situazione magari mi faccio un giro in un altro posto, chiedo anche lì, consulto poi decido, perché mi scoccio a spendere soldi in posate che poi non durano un cavolo vabbè chiusa parentesi, vi faccio vedere da Tigotà allora a Tigotà c'erano degli sconti sugli assorbenti della linea E che sono molto costosi io utilizzo questi, mi trovo bene così c'era lo sconto a 9 e qualcosa comunque sui 10 euro una scatola e con la tessera fedeltà e quindi ho preso un kit da giorno e un kit di quelli lunghi da notte conviene comprarli in promozione perché altrimenti vi spennano e a volte li compro anche al Carrefour perché ci sono le maxi scorte, maxi pacchi sempre in offerta un'altra offerta interessante che però non ho preso oggi sono i pacchi di Swiffer che ne utilizzo parecchi e magari prossima volta vediamo poi ho preso, vabbè, niente di particolare dei dentifricio insomma di scorta della menta questi non erano in offerta niente di che neanche questo in realtà però a quello di Tigotà vicino a casa dei miei erano in offerta questi della menta dentro i soft ne ho preso un altro perché uno l'ha preso a un ragazzo e poi per quanto riguarda invece la pulizia della casa ho riacquistato di scorta tre prodotti che mi piacciono che sono il pulitore ad induzione per i piani di induzione della cucina che ve ne ho già parlato nel video se non l'avete visto andatelo a vedere dove vi faccio vedere i passaggi per la pulizia ottimale del piano di induzione questo qui è con saponi vegetali antiopacizzante dato che non ce n'ho ancora tantissimo ho deciso di prenderne uno di scorta dell'Aquam poi l'altro giorno mi si è rovesciata una bottiglia di collo nuovo che ho acquistato per la pulizia dei mobili quello antistatico e quindi già mi sono messa avanti ne ho preso un altro perché mi sta piacendo ed è appunto il pulitore multiuso questo qui ve lo consiglio ve lo consiglio si appunto anti-aloni e rimuove la polvere senza lasciare aloni dovrebbe insomma contrastare il deposito quindi questo ve lo consiglio uno anche perché lascia insomma i mobili molto lucidi lisci cioè quando passate la mano e poi profuma tantissimo un profumo molto molto buono e delicato quindi non è aggressivo state attente però perché questo qui si svita facilmente ed è per questo che io ho perso il prodotto dentro la busta anche questo stamattina mentre lo stavo togliendo dalla borsa ho visto che era un po' allentato quindi non so se perché li fanno un po' difettati era così ultimo prodotto non per importanza è il pulitore per i vetri io mi sto trovando bene ultimamente che ho preso questo un po' di mesi fa che lo utilizzo poi per i vetri della cucina ma anche altre cose il Lom Circus questo qui profumo stupendo anti aloni anti polvere pulisce molto bene e non costa tanto quindi 750 ml di prodotto l'ho riacquistato per farne scorta perché quello che ho in bagno dell'acquam lo vorrei terminare ce n'è ancora poco ma non mi piace non lo so non pulisce come piace a me e mi sembra che avesse anche dentro dell'alcol o del insomma era un po' più aggressivo ho deciso di prendere soltanto questo d'ora in poi che è buono quindi questi sono i prodotti appunto che utilizzo che mi trovo bene che vi sto consigliando ecco se anche voi volete fare un salto a vedere gli sconti non è tutto in sconto ovviamente ci sono solo alcuni prodotti per il momento però se girate bene a volte saltano fuori un po' di offertine e ci sta quindi sì questo è quello che ho preso oggi poi quando tornerò poi alla spesa anche al carefour vado a dare un'occhiata anche lì se c'è qualche sconto in più qualche prodottino che mi può servire cerco di prendere cose insomma che mi servono effettivamente se posso in offerta ovviamente perché anche per dirvi la carta igienica la carta gli scottex costano una follia in quest'ultimo anno quindi se trovo poi delle offerte anche di questo tipo voglio approfittarne anche maxi rotoli di scottex da cucina che ne uso parecchi insomma e queste tipologie di prodotti voglio fare un salto in giro e vedere un po' poi mi sono anche ripromessa di andare a fare un giro a Lidl spero di riuscirci c'erano alcune cose che mi interessavano una o due settimane fa però non sono riuscita a passare e vabbè ormai non ci sono più però appena c'è qualcosa di utile che mi può servire magari vado a fare un giro anche lì e nulla ragazzi questo è tutto il video haul se vi è piaciuto mettete un bel like iscrivetevi se vi va per non perdervi tutti i prossimi video vi mando un abbraccio e ci vediamo prestissimo ciao